Nuova scadenza di contratto per gli operatori oncologici dell'ASL di Lecce e nuova protesta delle organizzazioni sindacali. Stamattina a partire dalle 9 nella sede dell'ASL di Via Miglietta c'è stato il sit-in dell'Unione Sindacale di Base. Una protesta necessaria si afferma in una nota in quanto il 31 maggio scadrà il contratto di lavoro a suo tempo prorogato dalla Regione Puglia e allo stato attuale nessuno ha comunicato quali iniziative si vogliono intraprendere per garantire la continuità del rapporto di lavoro e soprattutto quale servizio di assistenza si vuole somministrare ai pazienti oncologici. I lavoratori impiegati nell'assistenza ai pazienti oncologici sono qui oggi in presidio per chiedere l'applicazione dell'accordo sottoscritto presso la Task Force regionale il 10 maggio di quest'anno. chiedono l'attuazione di quell'accordo che prevede l'assunzione per autisti ed OSS a tempo indeterminato nelle ditte esterne. Inoltre chiediamo che i dipendenti interessati dalla Regione 68 vengano assunti a tempo indeterminato nell'ASL così come è previsto appunto dalla Regione 68 e così come è stato attuato nelle ASL di Brindisi e Bari. Un primo sit-in, quello di stamattina, al quale la USB promette di far seguire nuove iniziative anche a livello regionale se la situazione non sarà risolta.